Mi dedicherò ad una Confindustria, ad un progetto di Confindustria aperta nella quale gli imprenditori si possano incontrare, condividere attorno alle tematiche più calde, ovviamente quelle a breve con uno sguardo però a lungo, attorno a un tema di diversity diciamo il più ampio possibile. Questo vale per Confindustria naturalmente, vale per la governance delle imprese, cioè l'apertura a punti di vista, ad approcci e a modalità di gestione dei progetti e anche delle imprese quanto più possibile ampio, aperto e inclusivo.